Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Allora cari amici, oggi è venerdì 13 gennaio 2012 e sono ora le 10.30 precise. Vedete bene il titolo del video. Disturbi sessuali e patriarcato. Io devo questa trasmissione ad una interessante sollecitazione dell'amico Dario Gemini il quale mi ha inviato il link di un articolo psicoanalitico. Eccolo qua, vedete. Scienza e psicoanalisi. Poi nel riassunto vi darò i riferimenti più precisi affinché voi possiate andare a visitare questo sito e magari leggere questo articolo. Il titolo è «Sessualità umana, impotenza e frigidità, inquadramento psicodinamico». L'articolo, vedete, è del 10 maggio 2006, ma è validissimo anche oggi, capito? Bene, cari amici, vediamo un po'. E' bellissimo leggere gli scritti, i libri, gli articoli degli psicoanalisti. In primis i libri del fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud. E la psicoanalisi in genere, la psicoanalisi freudiana specialmente, hanno analizzato molto bene i disturbi sessuali, i disturbi sessuali dell'umanità, però non hanno mai fatto una distinzione tra il patriarcato, nel quale viviamo, attualmente e da vari millenni, e il patriarcato. Gli psicoanalisti, in primis Sigmund Freud, danno per scontato che l'umanità, sin dai suoi albori, sia stata sempre patriarcale. Cioè che la famiglia monogamica patriarcale che conosciamo noi, il vostro papà, la vostra mamma e voi figlioli, questa è la famiglia monogamica patriarcale. Un papà, una mamma e i figlioli. E danno per scontato che ci sia sempre stata. Ma non è così, cari amici. Però non è così. Prima c'è stato il patriarcato, prima. Prima c'è stato il patriarcato. Sono infinite le testimonianze sull'esistenza del patriarcato, quale prima forma di aggregazione sociale dell'umanità. Io ho scritto questo romanzo storico, 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 mitologico, La stirpe del serpente. Vedete, cari, catalogo a Liberti Editore. Esaminando la guerra di Troia, quale è un momento cruciale del passaggio cruento dal patriarcato al patriarcato. Il fatto è che tutti i vari disturbi molteplici, disturbi sessuali che affliggono l'umanità, da quando è nato il patriarcato, e specialmente oggi, usano infiniti disturbi sessuali, originano tutti dall'assetto patriarcale. Ve lo dimostro con parole semplici, cari amici. Ma prima vediamo un po' che dice questo simpatico psicoanalista froidiano. Mi pare che l'articolo sia scritto dal professor Nicola Peluffo, mi pare. Non sono sicuro, poi voi farete le vostre ricerche. Dico, ho estrapolato alcune frasi, va bene? Solo alcune frasi. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. L'impotenza, l'impotenza, e l'impotenza, la spiegazione classica dell'impotenza, la spiegazione classica dell'impotenza sessuale maschile, da parte degli psicoanalisti, e l'impotenza e anche l'incapacità di godere da parte delle donne, l'impotenza maschile e la anorgasmia, l'incapacità di godere da parte delle donne, e vanno da ricercarsi nella formula classica per cui l'uomo soffre di angoscia di castrazione, l'uomo, mica tutti, alcuni, magari tanti, hanno paura di introdurre il membro nella vagina femminile, la famosa locuzione, la vagina dentata, perché hanno paura che la vagina se lo mangi il pene, se lo mangi il pene. Le donne invece sono anorgasmiche, cioè non godono, non godono, in quanto le donne avrebbero invidia del pene e magari ci avrebbero per cui il desiderio di evirare, evirare, evirare l'uomo che si accoppia con la donna, capito? L'uomo, cioè gli uomini affetti da impotenza, da incapacità di erezione, devono ciò al fatto che loro, a livello inconscio, temono che una volta in erezione il proprio pene e immesso in vagina, venga mangiato e si ritrovino senza pene. la donna a sua volta ha paura del lato sessuale non raggiunge l'orgasmo perché sarebbe tormentata dal desiderio inconscio di mangiarlo, cioè di fare del male all'altro uomo. Credo? Eh, d'accordo. Poi c'è l'Edipo, l'Edipo, si parla dell'Edipo, famoso complesso edipico, no? C'è l'Edipo riguarda il bambino, il complesso di Elettra riguarda la bambina e l'Edipo consiste nel fatto che il bambino, da piccolino, si innamora della propria mamma e vorrebbe eliminare il papà. E il complesso di Elettra consiste nel fatto che la bambina, da piccolina, vorrebbe fare l'amore col papà ed eliminare la mamma. D'accordo? Ecco, poi, cioè quindi, e si continua. Dunque, 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 vediamo un po'. Allora, la bambina struttura, si torna a all'invidia del pene, si torna all'invidia del pene. La bambina struttura un vissuto profondissimo di inferiorità rispetto al maschio e, contemporaneamente, lotta contro questa realtà fantasmatica così dolorosa. E vedete come la stessa scienza, diciamo, la scienza, la psicoanalisi, diciamo così, legittima, legittima e l'inferiorità della donna, la legittima, perché la bambina, la donna, sin da bambina, da piccolina, struttura nella sua mente un vissuto profondissimo di inferiorità rispetto al maschio e, contemporaneamente, lotta contro questa realtà fantasmatica così dolorosa. Cioè, questo è proprio un patriarcato. Cioè, che la bambina e poi la donna abbia invidia del pene significa che le manca qualcosa e se ne manca qualcosa vuol dire che il maschio è superiore. Il maschio ha qualcosa in più della donna per cui la donna invidia il pene, invidia, è un vuoto. Mentre l'uomo è un pieno, la donna è un vuoto e la legittimazione, diciamo così, scientifica o parascientifica della supremazia dell'uomo nei confronti della donna. Già Aristotele aveva fatto tale legittimazione della superiorità della donna nei confronti dell'uomo. Certo, lui non era entrato nei particolari, in particolari come fanno gli psicoanalisti, però Aristotele aveva detto che la donna è un mero contenitore, un mero contenitore dove l'uomo ci mette dentro lo sperma, lo sperma, lo sperma ci mette dentro lo sperma che è costituito da tanti spermatozoi, tanti spermatozoi e lo sperma dentro questo mero contenitore lo sperma si sviluppa piano piano e in nove mesi nasce il bambino ma in tutta questa operazione di mettere al mondo i bambini sarebbe per la donna una cosa passiva e per l'uomo una cosa attiva, l'uomo è attivo, la donna è passiva e per questo che poi la stessa medicina non ha dato mai importanza a quello che avviene nei nove mesi della vita dell'embrione e del feto la medicina poi la medicina patriarcale se non mi pare ad altro ieri tranne qualche rara eccezione non ha dato mai importanza al periodo della vita intrauterina che sono nove mesi e sono nove mesate cari amici non si scherza mica e per cui la stessa genetica è stata condizionata è stata condizionata a non dare importanza a questi nove mesi che sono nove mesi fondamentali dice che importanza viviamo ormai è già scontato l'immaginario collettivo maschile è già scontato che nei nove mesi l'embrione poi il feto stanno lì in un contenitore in un contenitore neutro e in questo contenitore neutro cresce lo sperma lo sperma gli spermatozoi dell'uomo si sviluppano e per cui la scheda genetica in un certo senso è la scheda genetica dell'uomo non della donna e per cui non c'è stata tanta io ne ho parlato in tanti video mi pare un video intitolato genetica grande idea poi un altro video intitolato secondo natura poi un altro video intitolato cervello unisex alla nascita relativamente alla trasmissione delle malattie la genetica mica ha mai appurato tutte le trasformazioni elettrochimiche che avvengono nei confronti della scheda genetica nel ventre della mamma nel ventre materno nove mesi avviene di tutto in questi nove mesi quando il bambino nasce si può dire che i giochi sono già stati fatti ma procediamo con ordine amici procediamo con ordine vedete allora qua cari amici il concetto è sempre quello che i casi di impotenza maschile e femminile e l'impotenza femminile consisterebbe nella incapacità della donna grossomodo di godere hanno orgasmia non c'è orgasmo perché ma questo è una legittimazione del patriarcato è una legittimazione della superiorità dell'uomo nei confronti della donna e qua non si fa addirittura mi pare che un certo momento eccolo qua eccola qua addirittura la donna la donna per questo odio che ha la donna le donne alcune donne si parla di disturbi sessuali più eclatanti va bene e la donna e la donna avendo la bambina provando invidia per il pene perché i bambini hanno il pene e le bambine no e le bambine dicono ma quelli diano qualcosa più di noi cosa fa cosa fa e si si fissa sulla clitoride si fissa sulla clitoride su clitoride e dimentica la vagina dimentica per cui ci potrebbe essere una spinta verso la omosessualità cioè vedete di nuovo una svalutazione del clitoride quanti discorsi che vi ho fatto amici miei su quell'orgono meraviglioso che è il la la clitoride devo dire il o la perché in lingua italiana clitoride sia maschile che femminile vedete si arriva sempre lì si è appunto che diceva si con Freud diceva si con Freud diceva che che la che la donna matura quella sessualmente realizzata è quella che goda in profondità e se quella donna realmente matura realmente matura ben maturata è quella che goda in profondità e vuol dire che il pene serve a qualcosa eh serve a qualcosa il pene no? è importante il pene ma si come Freud dice che la donna invece che gode non in profondità ma in superficie cioè gode nel clitoride quello non è sensualmente matura capito è rimasta infantile perché se la donna non viene penetrata nelle sue profondità e magari da pene da pene immaginati enormi è immatura e per cui i patriarchi tagliavano il clitoride alle donne chissà perché mi chiedono a Sigmund Freud Sigmund Freud ma perché i patriarchi facevano l'acridoridectomia perché io vi ho parlato tante volte di una grande sessuologa americana Shearheit Shearheit mi ho fatto dei video tanti video che poi l'hanno cacciata via come collaborativi da quella perché diceva che la donna gode solo con i clitoride i clitoride l'hanno cacciata via capito dava fastidio alla scienza patriarcale con i clitoride siete non accorti i patriarchi i patriarchi i fondatori del patriarcato sì sì sono scritte queste cose qua cari amici sono scritte cari amici questo è un libro che dopo la mia morte verrà tradotto e letto in tutte le scuole di tutto il mondo cari amici post mortem però post mortem siete non accorti i patriarchi che le donne godevano da matte solo lì i clitoride e beh le terminazioni nervose stanno tutto lì quel piccolo organo erettile e loro che facevano è come fatto Alessandro Magno al nodo decordio l'ha tagliato il nodo decordio e così loro eliminiamo alla radice il problema hanno detto le donne devono essere penetrate in profondità non devono accontentarsi di godere col clitoride devono godere con noi devono godere altro che ora via clitoride e l'ectomia c'è ancora tante volte vi dovrò ricordare che l'Egitto deve alla radicale Emma Bonino il fatto che il Parlamento egiziano abbia dichiarato 5 o 6 anni fa illegale l'accreditore dell'ectomia perché prima era legale in Egitto che l'Egitto sta qua vicino non sta in Afghanistan l'Egitto sta qua vicino a casa nostra il Parlamento egiziano ha dichiarato illegale la pratica dell'accreditore dell'ectomia 4 o 5 anni fa per merito della radicale Emma Bonino dicono qua che cos'è il patriarcato il patriarcato è questo qua supremazia del pene sulla vagina e ovviamente eliminazione del clitoride facendo la clitoridectomia e quindi che dire di questi di questi articoli psicoanalitici che dire che loro continuano a parlare dei disturbi sessuali che sono originati dalle vicende primordiali che bambini e bambine vivono in rapporto con loro papà complesso di Edipo complesso di Elettra però esaminano il sintomo illustrano bene il sintomo ma non vanno mai alla radice alla causa la causa qual è? la causa di tutti questi disturbi sessuali in fin di conti qual è? e Dito non lo dicono mai è la famiglia è la famiglia è naturale che nella famiglia che è fatta da un papà e una mamma e da uno due tre bambini è naturale che poi accadano queste dinamiche perché se la bambina poverina come unico uomo quando nasce la bambina come unico uomo che sta vicino a lei vede vede il suo papà e resta imprintata dal suo papà perché i bambini e le bambine sono mica deficienti non sono capaci di parlare ma le cose le capiscono meglio di noi e se se c'è un solo uomo perché nella famiglia monogamica patriarcale ce n'è uno solo di uomo per ogni famiglia c'è una sola donna e un solo uomo la bambina che lo sa di essere una bambina la bambina lo sa di essere una bambina si è in amore del papà complesso di elettra che poi crescendo la bambina dice vabbè ma io non ci posso sottare con mio papà ne devo trovare un altro uomo ne devo trovare però il primo amore è quello per il papà il primo amore non si scorta mai il primo amore non si scorta e il bambino poverino che può fare se vede accanto a sé una sola donna che è la mamma si vedrà pure altre donne ma quella che gli sta sempre appresso è la mamma di solito e che fa si è in amore della mamma è chiaro perché il bambino vive scemo quando nasce lo sa che è un baschetto d'accordo non c'è bisogno che parli si è in amore della mamma immagina il seno della mamma il latte e via di seguito è per questo che le donne hanno il decoltè erano magari tutte potevano essere nel settecento ma il seno lo potevano sempre far vedere il seno il seno l'abbondanza del seno e allora per forza che poi per il bambino il primo amore è quello per mamma e per la bambina il primo amore è quello per papà poi si crescendo un bambino un ragazzo una ragazza dice non ci posso andare il ragazzo dice non ci posso andare con mamma e la ragazza dice non ci posso andare con papà e l'imprendica è questa è una famiglia monocamica e per cui si rivolgono si rivolgono ad altri e nasce il colpo di fumi nasce io ho sempre definito il colpo di fumi innamoramento l'invenzione patriarcale questo è un laboratorio patriarcale l'ho sempre definito un colpo di mamma non un colpo di fiamma quando un ragazzo si innamora si innamora di una ragazza lo chiamo il colpo di mamma cioè un colpo di fiamma un colpo di mamma un ritorno di mamma e così per la ragazza quando si innamora di un ragazzo è un colpo di papà un colpo di papà il papà non si scorda più d'accordo in una maniera o nell'altra in una maniera o nell'altra in una maniera o nell'altra noi nel corso della vita inseguiremo sempre tanti amori ciascuno di questi amori ci riporta inevitabilmente o a mamma o a papà d'accordo cari amici questo è il laboratorio patriarcale dove nasce il cosiddetto amor romantico comunque la passione d'amore d'accordo è questa qua cari amici il mondo patriarcale poi capito vi avete capito cari amici allora qual è la soluzione sì ritornare al matriarcato non si può perché è stata scoperta la proprietà privata la proprietà privata è quella dei propri figli lo dice la parola proletario altre volte che vi ho spiegato che la parola proletario è stata usata ed abusata nel 1700 1800 1900 per indicare gli operai proletariato ma no il proletario è colui che come unica forma di proprietà privata è i propri figli così era usata un'antica Roma la parola proletario cioè una volta inventata la proprietà privata non puoi più tornare indietro è come una volta che hai inventato l'energia nucleare che non puoi più non inventata scoperta una volta che hai scoperto l'energia nucleare e che hai inventato la bomba atomica non puoi più dire che l'energia nucleare non la conosci che le bomba atomica non le conosci così per la proprietà privata non si può più tornare indietro allora quale potrebbe essere la soluzione per sfuggire a tutte queste vicende qua quale potrebbe essere per sfuggire a questo mortale imprinting che determina tantissime disfunzioni sessuali determina l'infelicità di tante persone e che i bambini e le bambine dovrebbero essere affidati a comunità di inserianti pagati e pagati pagati cioè appena nascono i bambini appena nascono e invece di stare nella prigione della famiglia monocamica patriarcale dovrebbero essere portati dai loro genitori che sono in comunità di quartiere a pagamento si paga il bambino lo deve mantenere comunque quindi si danno tanti posti di lavoro a ragazzi e ragazze per cui ogni bambino ogni bambina che ha continua a avere il suo papà e la sua mamma d'accordo non si può tornare indietro però cresce in queste comunità dove ciascun bambino può vedere la faccia di tante donne e ciascuna bambina può vedere la faccia di tanti uomini perché ci sarebbero gli educatori e le educatrici il bambino starebbe lì che so dal lunedì al sabato e starebbe con mamma e papà la domenica d'accordo ogni papà ogni mamma tanto ormai è sicuro io ce l'ho un figlio ce l'ho un figlio un figlio sta là nella comunità dei quartieri ci sarebbe da mangiare a tanti giovani e il bambino nella comunità dei quartieri potrebbe starci dalla mattina alla sera l'ideale sarebbe che ci stesse 24 ore su 24 come una sorta di collegio di collegio se so non è possibile perché non si può che ci stia dalla mattina presto alla sera tardi e vede le facce di tanti uomini di tante donne ma già già dei primi giorni della nascita capito capito cari amici io più in là non posso andare più in là perché non vi posso dire che si può tornare al matriarcato ormai il concetto di proprietà privata ce l'abbiamo e ciascuno rivendica la proprietà privata dei propri figli perché relativamente alla perpetuazione della specie io per cui ho fatto il video intitolato patriarcato e senso di colpa pure senso di colpa e patriarcato dove vi trovate la chiave del senso di colpa che affligge l'umanità cioè perché l'umanità è afflitta da quel senso di colpa per il quale c'è bisogno di religioni misteriche come la religione di Iside di cui i sacerdoti si castravano prima di diventare sacerdoti religioni misteriche come quella di Gesù dove c'è bisogno di un Dio che finisce in croce andate a vedere il video senso di colpa e patriarcato che vi spiega tante cose relativamente al senso di colpa che sotto sotto pervade l'animo umano in patriarcato ecco ma comunque non si può tornare al patriarcato però almeno diciamole queste cose diciamole primo che il patriarcato non è vero che c'è sempre stato è iniziato a un certo punto è iniziato all'incirca diciamo tra il 2000 e il 1500 avanti Cristo tra il 2000 e il 1500 avanti Cristo ed ha ricevuto la sua legittimazione divina potentissima dal Dio più potente che sia mai apparso sulla faccia della terra che è Yahweh il Dio daico Yahweh il patriarcato ha ricevuto la sua legittimazione divina nei dici comandamenti mosaici siamo nel 1340 1330 c'era pure prima c'era pure prima la proprietà privata il codice di Hammurabi ma ci vuole una legittimazione ci vuole potente e nei dici comandamenti mosaici per la religione ebraica per la quale e poi il cristianesimo e l'islamismo si sono abbeverati alla religione ebraica attegendone i dici comandamenti io vi potrei leggere qua per esempio dalla Bibbia dalla Bibbia vi potrei anzi invito voi cari amici andarvi a leggere il levitico il levitico per vedere come sin dall'origine del patriarcato nella sua forma di legittimazione divina che ci siano una miglia degli impedimenti sessuali impedimenti per cui se uno legge e dice non si può non si può non ci si può copiare con l'animale cioè un uomo non può copiarsi con una regola e una donna non può copiarsi con il toro ma allora queste cose una volta si ricevono oppure uno non si può copiare con la sua nuora e allora il giovane dice ma allora se facevano se c'è un divieto non vi posso leggere tutto cari amici voi andate a leggere il libro levitico che è uno dei primi libri del vecchio testamento e così capirete parecchio su quello che è il patriarcato d'accordo è tutto un sistema di divieti di proibizioni che ti invitano a trasgredirli per cui più di una volta vi ho fatto vedere i quattro codici codice penale codice civile codici di procedura penale codice di procedura civile quattro libroni che vi mettono paura che in pratica sono tutti tesi alla difesa della proprietà privata nelle sue infinite forme e manifestazioni va bene va bene cari amici cari amici io ringrazio l'amico Dario Cemini che mi ha mandato questa bella sollecitazione poi nel riassunto cercherò di darvi i riferimenti precisi affinché voi possiate andare a leggere l'articolo nella sua interezza grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da sera chino massoni grazie a tutti grazie a tutti